Sono le ore 21 e già dalle 17 circa sono iniziate, per così dire, le operazioni di segnalazione di pronto intervento da parte dei vigili del fuoco nella città vecchia di Taranto, presso Arco San Domenico, un palazzo pericolante. E' stato segnalato ai vigili del fuoco da Ugo Lomartire, già consigliere comunale e già presidente della circoscrizione Isola Porta Napoli. Dicevo tutte queste ore perché ovviamente c'è stata tutta una trafila, un iter, per verificare la situazione dell'immobile. Un intervento necessario, come già era accaduto in Via Duomo. Allora Lomartire, facciamo un po' il punto della situazione. Sì, siamo intervenuti, ho fatto questa segnalazione ai vigili del fuoco in Arco San Domenico. Effettivamente è stata verificata una situazione di pericolo, alcuni calcinacci sono stati rimossi, alcune pietre sono state rimosse e potevano cadere da un momento all'altro in testa le persone. Qui ci troviamo in una zona centralissima della città vecchia dove vivono delle persone che hanno il sacro santo diritto di vivere nella sicurezza. Ci sono anche dei bambini e quindi quello che chiedo è che l'amministrazione comunale, che il sindaco Melucci si muova finché non ci siano situazioni di potenziale pericolo nella città vecchia per la sicurezza delle persone. Quindi facendo anche un controllo degli edifici che possono presentare una situazione di pericolo. Nello specifico cosa hanno fatto i vigili del fuoco e quali saranno i passi successivi? Hanno rimosso alcune parti pericolose di questo edificio, sono intervenuto anche un tecnico comunale provvederanno con una ordinanza urgente per eliminare tutte le altre situazioni nell'ambito di questo edificio di potenziale pericolo ma bisogna anche affrontare un altro problema perché nell'ambito dell'ufficio risanamento città vecchia ci sono solo 4 persone, 4 dipendenti, se ne togliamo due, uno è il custode e uno è un amministrativo c'è solo un assistente tecnico e un geometra che con tutta la loro buona volontà che ci possono mettere non riusciranno mai a seguire tutta quella che è la situazione nella città vecchia e quindi occorre aumentare il personale affinché tutta questa situazione non vada a gravare sulle spalle di queste due persone che bene lavorano ma non ce la faranno mai a poter seguire in maniera ottimale quello che avviene qui in città vecchia. E ho qui al mio fianco il geometra Andrea Masella che da esperto della materia ci ha seguito, ci ha supportato nel mentre appunto così commentavamo, chiamavamo i soggetti preposti, i vigili del fuoco con riferimento allo stabile, come detto, fatiscente e crollante, pericolante, è il caso di dire, di Arco San Martino Allora, un po' di aspetti tecnici su questo immobile che, diciamolo in parole povere, sta crollando a pezzi, si sta sgretolando Sì, praticamente questo immobile è fatiscente e pericolante, c'erano delle solette in marmo vetuste pericolanti che hanno subito delle scarse manutenzioni nel tempo e hanno portato uno stato di degrado Questo immobile è praticamente pericolante e grazie all'ausilio dei vigili del fuoco e anche dei funzionali del comune si è limitata la pericolosità Grazie! 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 Grazie!